La prova del volteggio anche perché tutti torni. Ed ora concludiamo la sintesi degli esercizi dedicando alla romena Zaiu. La chiusura, Monica Zaiu, 9,625 per lei al corpo libero. E questa è la più giovane, è uscita leggermente, comunque è un'uscita di pedale, una pedalizzazione. È la più giovane tra le ginnaste che si sono presentate a questo triangolare. Pensate, è del 3 novembre del 1981. Quindi proprio oggi compie 12 anni, minuscola ma piena di energia. 1,37 per 28 kg. Per Monica Zaiu, questo è il secondo... La seconda esperienza...